Mi dispiace per la posizione in classifica del Ravenna, è vero che forse è stato l'anno più bello calcisticamente per me, però andiamo in campo come ogni altra partita per andare a vincere e ce la metteremo tutta e mi dispiace ma nel calcio è così. Ci sono anche queste partite, però noi siamo professionali e dobbiamo fare il nostro dovere. Sì, venivo da Renate che mi giocavo la promozione, poi ho fatto questa scelta di venire da Carpi perché è una grande società, una grande storia. Il bilancio potevo fare qualche gol in più, ho avuto sicuramente meno spazio rispetto all'inizio appena sono venuto, però l'obiettivo era quello di salvarci e ce l'abbiamo fatta, peccato perché secondo me potevamo ambire anche una posizione un po' più alta e fare i playoff. Sì, 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 io ho un altro anno di contratto, sto bene qua a Carpi, penso che non mi muoverò da qua. Mi trovo bene, è normale, poi il mercato non si può mai sapere, però io rispetterò il mio contratto e sarò qua benissimamente. Grazie. 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 Grazie.